...con la creazione di esperienze e visite. Vi faccio vedere un po' di lavori e fondamentalmente cerco di farvi capire quali sono le cose che a me chiedono e quali sono le cose che io cerco di farfettere agli studenti a cui cerco di insegnare, come essi diventati a video design. Già dal 2004 noi lasciamo come gruppo di filmmaker in ambito televisivo, facciamo nel 2001. Inicialmente siamo dei registri di filmmaker, facciamo con il TV, il TV, eccetera, eccetera, ma sempre di più ci chiedono di lavorare nei miei ambienti per creare ambienti sessoriali, lavorare con le video proiezioni, cercare di lavorare...